Secondo me è, non lo so, forse è molto più bello di quel che ci vogliamo dire, perché non credo ci faccia bene questo dire, ribadire sempre che fa tutto sempre schifo, che siamo sempre tutti così sbagliati. In realtà io credo ancora che abbiamo cose belle da piantare, da far crescere e quindi la rivoluzione è anche questa, considerare le cose da questo punto di vista e tutti i temi possono partire da una cosa più profonda, oso una parolona, dall'anima, tutti i temi possono partire e quindi noi questo. Allora questa sera alle 21.05 parte Revolution, riparte Revolution in realtà e ci saranno tantissime novità, abbiamo uno studio che si è un po' allargato, ci siamo un po' allargati. E tanto siete da, sempre più gente vi vede, quindi è ovvio che bisogna ingrandirsi. Speriamo, fateci compagnia, state con noi perché noi proviamo a raccontare, come diceva Lucia, anche le cose in un modo diverso. Il tema di oggi, vuoi già il tema? Certo, certo. Ci sarà anche la musica, eh? Questa è un'altra delle novità. Sì, musica dal vivo, per cui ogni cosa sarà punteggiata anche da un commento sonoro e poi il tema, abbiamo scelto un tema che in realtà sembra essere, cioè se guardate la televisione, se andate in una libreria, ci sono scaffali, scaffali, con dei libri con un tema specifico, un tema che divide questo paese, questa umanità, è divisa su questo. Voi penserete alla politica, in realtà ci divide il cibo. Cioè c'è questa sorta di cibomania, per cui se c'è stato detto, se abbiamo sempre pensato di essere quello che mangiamo, oggi sembra che siamo quello che non mangiamo. E' questo, cioè non siamo a dirci che è più bravo, che è meno bravo, che è più figo, che è meno figo. No, la cosa è tutta, il titolo della puntata è Cuori affamati. Cioè ognuno di noi in fondo è un cuore affamato e il cibo non è mai solo il cibo, il cibo è tutto un mondo, perché per arrivare al piatto c'è un mondo che si è mosso da chi è partito, coltivato, da chi ha raccolto, da chi poi l'ha elaborato, da chi ce l'ha cucinato, da chi ce l'ha servito, insomma è un mondo. Insomma, 21.05, Vito ed Enrico, voi non aspettavate altro che salutare di persona la nostra Arianna, devo dire, la truppe si è ringalluzzita, io divento gelosa, Arianna sei venuta adesso e arrivederci perché questo è il nostro spazio, sia chiaro. Lui prima, tu hai detto, io non ho più una verdetà, lui ha riso. Ci vogliamo ammazzare, ecco, qualcuno ha detto la mamma e la figlia questo a Fausto non gliela perdono. La mamma e la figlia, o almeno la sorella più grande su via. Ma guarda che siamo coetane noi, è inutile a fare tutti i figli, non sia mai, così vedono quanto sei più giovane tu di me, non sia mai, che Dio vi benedica tutti, a domani, 7.30, 21.05, Revolution, adesso, il medico, guarda lì che bionda. Ciao!